GABRIELLA MANIERO uno slogan per il tuo locale qualità, cortesia venite a trovarci come una serata fra amici perché al Conte Verde? perché è una cucina squisita e un ambiente familiare e in particolare cosa ti è piaciuto di più? gli spiedini di gamberi con guanciale e spuma di gorgonzola Vincenzo Tedesco chef dell'Ostaria del Conte Verde ci illustrerà adesso la preparazione dei gamberi con guanciale e spuma di gorgonzola è un piatto molto semplice vengono sgusciati naturalmente i gamberi poi si affetta del guanciale vengono avvolti nel guanciale e non si fa altro che preparare una spuma di gorgonzola fatta con della panna e del gorgonzola e poi vengono cotti a forno a bassa temperatura è tutto qua un piatto molto semplice è da 11 anni che lo facciamo ed è un piatto molto ricercato nel nostro ristorante e finalmente possiamo assaggiare questo splendido piatto di gamberi al guanciale e adesso è il momento del filetto dorata con patate e speck su crema di fagioli